Il giorno del ricordo ci ricorda di un'Italia che deve ancora fare i conti col proprio passato. La ricorrenza del 10 febbraio, per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata, fu istituita il 30 marzo 2004, con una legge cui i primi firmatari furono Roberto Menia e Ignazio Larussa, ex militanti del Movimento Sociale Italiano, entrambi confluiti in Fratelli d'Italia. A Pescara, su un muro del liceo scientifico da Vinci, questa notte è comparso uno striscione a firma dell'associazione di destra Audere Semper, riconducibile a federazione. Lo striscione non è piaciuto a un professore di storia e filosofia di quel liceo, che lo ha strappato raccontando, in un video postato sui social, i motivi del suo gesto. Si tratta di propaganda parafascista, ha detto il docente. Qui all'ingresso del liceo stamani ho trovato un cartellone, onore ai martiri delle foibe, firmato Audere Semper Federazione. L'ho appena rimosso perché è propaganda parafascista e sulle foibe ho fatto un discorso geografico serio, un dibattito pubblico vero a partire dai crimini commessi dal fascismo in Jugoslavia e la reazione criminale che fu una foibe, la persecuzione dei foibe. Questa è propaganda fascista e quindi va rimossa. I massacri delle foibe al termine della seconda guerra mondiale rappresentano uno dei tanti terribili episodi di quegli anni, in cui uomini e donne morivano a migliaia tutti i giorni, sotto i bombardamenti, al fronte, nei lager o distenti. La Dalmazia era stata occupata dagli italiani nel 1918, dove imposero l'italianizzazione forzata e violenta della popolazione slava. Tra gli slavi, dopo anni di abusi, il sentimento anti-italiano era preponderante e portò all'ingiustificabile eccidio di migliaia di civili durante l'avanzata dell'esercito comunista jugoslavo. Il professore pescarese, che auspica un dibattito pubblico sull'argomento, senza strumentalizzazioni politiche, nel video si rivolge direttamente ai militanti di Audere Semper. E a non richiamarsi a D'Annunzio, ma a D'Annunzio, D'Annunzio diceva molto scoperta, aveva una caratura intellettuale e culturale nettamente superiore a quelli Mussolini, non era beceramente razzista e fascista appunto Mussolini. E poi soprattutto agite a volto scoperto.